Ok, mi vengo a dire, non è un programma mio, sono soltanto modificato per farlo vivere le piccole esperienze di un grande notte. Ah, ho detto che bisogna poter aprire più cose, più intensamente c'è ancora una rispettiva, una del programma. Mi sono chiesto di dire che, perché andò con gli altri, non lo fa, perché non lo vedo, io qua sto, non lo faccio in un futuro a sulla, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.